è venuto a 60-80 per registrare una persona quando si va a Moco la polizia ha informazione che è outo con una candela un autobus a 60-80 è arrivata la polizia e si accade e venuto da fuori che non accade fuori che non accade e sa che è quello che resta ora la polizia ha visto ciò e ora a chi non usco il canto e se chiedono il canto si è venuto da fuori che non serve più come si dimenticiamo il nostro trezionato come si dimenticiamo come si è venuto da fuori la polizia è completa e non si è venuto da fuori e il fango e si è venuto da fuori che stai e si è venuto da fuori quando si è venuto da fuori ora che la candela è comissata e la candela è comissata da parte del motor e la città si è via dentro e qui un effetto completo parte per dentro. Guarda il tubo non è di gas, che c'è qui dentro, e questa è la resta, effetto, attraverso la polizia è investigando, la polizia è venuta, non c'è nessun errore di responsabile. L'abbiamo a buscare trete di adonio, ma guarda esattamente quello che succede Grazie a tutti.